Non lo so, questa è la prima guerra per cui utilizziamo il VAR, per cui dobbiamo andare a cercare di capire se possibile ogni vittima da chi dipende, quando, parliamoci chiaro Massimo, ne abbiamo viste, anche se non analizzate in questo dettaglio, moltissime guerre. Nelle guerre tutte e due le parti uccidono, in tutte le parti esiste sempre qualcuno che non obbedisce agli ordini e fa quello che gli passa in testa per paura, per odio, per cose, quindi è così. Quindi se noi andiamo a vedere se qualcuno ha fatto qualcosa di male in una guerra, troveremo tantissime persone, tantissimi che hanno fatto qualcosa di male. Il problema di questa guerra, ed è il motivo reale di visione, è che non tutti concordano su chi ha sbagliato. Mentre per me è chiarissimo, esiste quando un carroarmato supera un confine di una nazione sovrana, quello che dà ordine al carroarmato di superare il confine ha torto. Non esiste, c'è un confine, chi supera quel confine mentre una nazione sovrana ha torto. Poi quello che succede con la guerra è guerra, la guerra è sporca, brutta, cattiva, indecente, ma noi qua ci siamo divisi perché molti, come Feltri, io non concordo, ma anche Sandra è uno di quelli, che dicono che noi non dovevamo aiutare gli ucraini. La grande differenza, il dibattito nostro, al di là dei morti, dei morti che sono morti e fanno parte della drammaticità della guerra, è stata tra quelli come Feltri che dicevano all'Ucraina è più debole, quindi bisognava abbandonarla al proprio destino, sarebbe finito tutto. Io invece ho sempre detto che una nazione che viene invasa e chiede aiuto va aiutata. Sì certo, fa il come che fa la differenza. Va aiutata, il come, la differenza è il come che fa la differenza, però, vedi Sana, sono loro che devono chiederti come vogliono essere aiutati. Perché se dall'Ucraina fosse arrivata una richiesta di viveri, croce rossa, dall'Ucraina, l'altro giorno il ministro degli esteri è stato chiarissimo, no? Abbiamo bisogno di tre cose, dal loro punto di vista, armi, armi, armi. No, no. Perché la loro richiesta è dateci la possibilità di morire difendendoci. Perché secondo me, in questo io la penso diversamente da te, se tu non gli dessi le armi, si difenderebbero con i bastoni, con le unghie, con i denti, con le pietre, perché vogliono difendere la propria terra, perché non accettano di perdere la libertà e la terra, come dice Vittorio Feltri, e si difenderebbero in qualunque altro modo. Allora dicono, noi ci difenderemo comunque, moriremo lo stesso qua, dateci la possibilità di combattere ad armi pari più possibili. Aggiungo solo una cosa che dicevo prima con Massimo, armi pari che sappiamo tutti non esistono. Perché, come diceva prima giustamente qualcuno, i russi hanno combattuto questa guerra fino adesso utilizzando i mezzi di terra e il dramma, la mia paura, è che aumentando i giorni di durata possano usare altri mezzi, altri tipi di bombe, i bombardamenti aerei. Ed è questa anche la paura degli ucraini, per questo chiedono altri tipi di armi, perché sanno benissimo che i russi possono alzare il tiro e il modo con cui combattono le sue guerre. Non vi ho detto io. Grazie.